Ben ritrovati, oggi accanto a me ospite speciale Rossano Cattivello, direttore del settimanale Il Friuli. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno Marta e buongiorno telespectatori. Grazie. Sei venuto a trovarci perché il settimanale Il Friuli ripropone per il terzo anno, credo, consecutivo, questa iniziativa fortunata che tanto piace a noi e ai nostri lettori, ovvero la bandiera del Friuli in allegato col settimanale. Beh, una testata con il nostro nome e con la nostra valenza identitaria non poteva non impegnarsi su un simbolo. Terzo anno, come dicevi bene, che proponiamo in edicola la bandiera del Friuli. Eccola qua, vediamo inquadrata un pochino meglio, bella grande da poter sventolare fuori casa, sui balconi o anche semplicemente, come fanno tanti, perché è nato tutto da qui. È nato in maniera un po', diciamo, quasi goliardica, no? O comunque, insomma... Diciamo che non è un qualche cosa che guarda al passato, qualcosa di nostalgico, non è che si sogni con questo la restaurazione del patriarcato, assolutamente. Lo spunto ci è venuto dai giovani, dai giovani che o perché ci mandano in email, in redazione delle foto per le pagine della gente, o perché li vediamo noi stessi sui social, sono tantissimi, io direi diverse migliaia di giovani che vanno in giro per il mondo, per studio, per lavoro, dall'Erasmus o perché lavorano per delle multinazionali, o perché hanno fondato dei fogolars, furlans in giro per il mondo, e che cosa fanno? Si fanno delle foto, dei selfie o dei gruppi, o comunque si fanno fotografare con la bandiera, in location esotiche, particolare, dalla montagna al mare, dalle isole caraibiche alle vette dell'Everest, e si fanno una foto con la bandiera e poi la postano. E questo qui un pochino anche noi ci ha sorpreso, perché non ci aspettavamo che una generazione cittadina del mondo, super tecnologica, volesse fotografarsi e farsi vedere attraverso i social, quindi a tutto il mondo, in questa maniera. E allora ci abbiamo ragionato sopra, abbiamo capito che in questa globalità i friulani amano, soprattutto i giovani, amano ricordare chi sono, dirlo a tutti, manifestare la propria identità appunto attraverso questo piccolo, semplice simbolo, e allora abbiamo voluto aiutarli, in qualche maniera aiutare tutti coloro che tengono a un simbolo, ma perché dietro c'è un'identità, ma non un'identità vuota, non è un'identità che si chiude su se stessa, è un'identità che ha dei valori, ha una storia, una cultura, una lingua, e che sulla base di questi vuole rimanere unita, una comunità, un popolo unito. State vedendo anche alcune delle immagini che abbiamo selezionato sul numero in Odicola quest'oggi, abbiamo una doppia pagina con tutte le foto e appunto anche la spiegazione di questa iniziativa. Piace ai giovani, anche ai non giovani, perché sono tanti i turisti, o anche magari no, o comunque in valigia non occupa tanto spazio, pesa pochissimo, lo metti in borsa, e insomma è un attimo farsi un selfie o una foto sotto un monumento, un simbolo, è un po' come la bandierina sulla Luna degli astronauti, fa un po' quell'effetto lì, ovviamente insomma moderando il tutto, ricalibrando il tutto. Beh, a parte qualche fotomontaggio, non è ancora arrivata sulla Luna. Chissà, magari in futuro, noi siamo di larghe vedute. Allora, anche in prospettiva della celebrazione e manifestazione per la Fiesta dei Patri e del Friul, che si terranno all'inizio di aprile, per il terzo anno la nostra testata, il nostro giornale, allega solo nelle edicole la bandiera, quindi andate a chiederla oppure prenotatela per quattro numeri, quindi per un mese, sono a disposizione di tutti i nostri lettori. Che risposta c'è stata Rossano? Insomma, io ho detto che è un'iniziativa vincente, non solo è andata a Ruba, ma poi c'è anche una risposta di foto, di nuove immagini che vengono inviate. Cosa vi dice il pubblico? È un sistema che si autoalimenta, e quindi anche così per, un po' per emulazione, un po' perché è un'idea che lanciamo e che tanti raccolgono, le altre due edizioni di questa iniziativa sono andate esaurite, ovviamente. E stiamo parlando di circa 3.000-3.500 bandiere all'anno, quindi non sono poche. Continuiamo, anche perché la gente ce lo chiede durante tutto l'anno. Noi riusciamo a fare questa promozione a, non è gratuita, a un prezzo veramente simbolico, perché è appena il costo della stoffa, ma è un'iniziativa che continua ad avere richiesta. E dopo continueranno a arrivarci delle foto che noi con molto piacere pubblicheremo. Noi e un altro sito partner, che è gli Average Furlangai, che anche loro hanno raggiunto quasi i 100.000 follower e anche lì hanno una sezione apposita per pubblicare le foto nuovamente di tantissimi giovani, tantissimi cittadini del mondo, ma con l'identità friulana che sono orgogliosi di portare avanti. Orgogliosi insomma di queste radici. La storia di questa bandiera, forse dovevamo dirla all'inizio, però giusto per, insomma, che simbolo è? Sì, simbolo del friuli, ma andiamo un po' nel... Andiamo nella storia, lo racconteremo anche nelle prossime puntate del settimanale, quando pubblichiamo... Ah, ecco, ci sono anche delle sorprese, no? Tra l'altro. Ma no, facciamo prima la storia e dopo la sorpresa. La storia ovviamente risale al patriarcato, è stata portata avanti, ci sono ancora delle... Vecchie bandiere, no? ...nei musei e negli archivi delle vecchie bandiere originari, faccio una nota però, i colori, è molto interessante perché ha gli stessi colori dell'Europa, giallo e blu, sarà un caso, è un caso ovviamente, però fa molto piacere il fatto che molto spesso ci consideriamo e siamo considerati soprattutto periferici, provinciali, dove è il friuli? In alto a destra nella cartina dell'Italia o se qualcuno non è fatto militare da queste parti, oppure near Venice, no? Con gli stranieri. E invece, anche chiacchierando ieri con Scarello, no? Emanuele Scarello, famoso chef, due stelle Michelin. Anche lui, ogni tanto nelle riunioni di grandi chef stellati, gli viene chiesto ma dove sei? Ma sei lassù, lontano, periferico? Come fai a fare alta cucina in un posto difficilmente raggiungibile? Ricordiamo che l'Italia, sotto aspetto logistico, finisce a maestre, no? Soprattutto quello dei treni. E lui ha detto, come siamo, non siamo periferici. Ha preso la cartina dell'Europa, ha tirato due diagonali, dove si incrociano le due diagonali è il friuli. E lui ha detto, no, tu che sei di Milano, sei tu periferico rispetto all'Europa. Ecco, quindi... Il friuli è un belico del mondo. Mi ricordo... Dell'Europa. Certamente no, ma dell'Europa sì. E nella sua storia, nella sua cultura ha tantissima Europa, perché è una contaminazione, è una sedimentazione di culture, di storie, anche di popoli. Siamo in un angolo d'Europa in cui nel giro di pochissimi chilometri cambia la cultura, la lingua, la cucina, l'ambiente. Pensiamo che ci troviamo all'interno del friuli, troviamo vette dolomitiche come deserti, i magredi possono essere considerate delle aree desertiche quasi, ci troviamo al mare con le dune piuttosto che la roccia. Quindi è un grande patrimonio. Ricordiamocelo e come per il simbolo cerchiamo di essere un pochino più orgogliosi. Anche per quello lo slogan di quest'anno che abbiamo abbinato alla promozione delle bandiere è un friulano, un'aquila, declinato in diverse lingue, oltre al friulano che è quella maggioritaria, ma anche degli idiomi del popolo friulano minoritari al loro interno, come possono essere il sapadino, piuttosto che il resiano, piuttosto che il bisiacolo, sloveno e il tedesco. E il dialetto pordenonese, quindi di radice rebeneta. Perché? Non dobbiamo essere polli, come ci ricordava il compianto del carissimo Venturini, ma dobbiamo essere aquile. Ecco, un pochino più aquile in questi tempi faremmo bene a esserlo. Allora, un minuto per anticipare, se si può, che ci saranno delle altre sorpresine riguardo a questa iniziativa. Continueremo a pubblicare delle foto, nelle prossimi numeri per tutto il periodo dell'iniziativa. Racconteremo la storia, come tu avevi accennato, della bandiera. Continueremo a raccontare come questo simbolo, questa identità nostra, possiamo portarla avanti, ma non per chiudersi rispetto agli altri, non per guardare indietro, ma per immaginare e realizzare un futuro per la nostra comunità. Grazie Rossano Cattivello. Li invito a leggere ovviamente il settimanale Friuli e come vi abbiamo detto, chiedete la bandiera al vostro edicolante o prenotatela con un piccolo contributo. Grazie Rossano, buona giornata, ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo qui sempre in diretta.